Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo episodio di Clash of Clans. Ci siamo fatti attendere ma sette giorni sono passati e finalmente tutti i muratori sono liberi e posso proseguire coi lavori. Niente, vedete che ho guadagnato bene direi. Ho praticamente 9 milioni di oro, 9 milioni di elisir, 90.000 di nero e poi la tesoreria che anche lei c'ha dentro quasi 2 milioni. Come ho fatto questo farming? Come al solito con la mia Lava Loon. Potete vedere anche che ho sprecato risorse in giro perché mi dava i nervi vedere che guadagnavo oro e non potevo metterlo da parte quindi mi sono messo a comprare decorazioni in pratica. Le ho comprate tutte e mi è rimasto più niente da comprare di decorazioni a parte quelle con le gemme che vabbè, quelle probabilmente non comprerò mai anche se le gemme non le uso praticamente. Niente, che c'è da dire? L'altra volta avevo dei dubbi anche perché ero appena diventato TH11 e non sapevo se sarei riuscito a guadagnare bene o no. Direi che i dubbi si sono dimostrati infondati perché ho guadagnato bene comunque. Ho attaccato soprattutto TH10, anzi quasi solo TH10. Ho anche TH11 ma erano soprattutto con la difesa Aquila messa in posizione stupida o Mini Max che non avevano proprio la difesa Aquila. Insomma, pochi TH11 e soprattutto TH10. Ho approfittato del fatto come al solito di essere nella Lega Titano che mi porta il bonus dei guadagni per cui ho guadagnato bene. L'ultima volta cosa abbiamo fatto? Avevamo messo a migliorare tutti i depositi di Elisir che adesso sono tutti al massimo. In più avevo 200.000 di nero e li avevo decisi di investire nella Regina. L'unico errore probabilmente è stato che dovevo fare subito il laboratorio. Secondo me invece di fare un altro deposito di Elisir avrei dovuto aspettare e fare il laboratorio. Va bene, rimediamo stavolta. Tanti fondi ce li abbiamo. Le mie idee sono queste. Giusto, intanto trappando vi faccio vedere quello che dicevo. Queste sono le difese. C'è da piangere. Quello sì, devo ammetterlo che c'è da piangere perché anche stanotte mi hanno attaccato, mi hanno derubato in una maniera estrema. Il punto è che ero full di risorse perché erano giorni che non c'avevo full di risorse. Poi adesso essendo TH11 quindi anche i TH11 possono rubarmi un'infinità di roba. Io da parte mia questi sono i miei attacchi. Sembrerà poco però come vi ripeto aggiunto il bonus eccetera i guadagni non erano male soprattutto tipo questo un bel 7000 di nero più il bonus che non mi sbaglio sembra su 1800. Adesso non mi ricordo mai questi dati. Sì, 1800 passa di bonus. Vede, 280.000 d'oro e 280.000 di lesir. Anche se i villaggi erano un po' scarni magari insomma. Il guadagno c'è. Poi considerato che io in Lavaloon spendo poco. Le ricerche in Titano diciamo che per volta sono 10-15 ricerche prima di trovarne uno quindi spendi al massimo 15.000 non è che sia una staggian spesa. Niente. Allora, il programma di oggi vi faccio vedere quello che voglio fare. Come ho pensato di spendere queste risorse. Niente. Per quanto riguarda l'Elysir io lo voglio investire tutto nei depositi d'oro e nel laboratorio. Perché la prossima cosa che voglio fare è mettere il castello del clan a livello 7 di modo da avere due incantesimi. Cioè due incantesimi neri oppure un incantesimo rosa. e io questo considero che sia il passo più importante. Siccome non voglio diventare ancora un TH-11 con la difesa d'Aquila e tutto niente. Quello è la cosa più importante che voglio fare. Dopodiché quindi 9 milioni più circa 2 milioni che c'è dentro qua pensavo faccio due depositi d'oro e un laboratorio. Uno. Uno ho. E niente. Invece per quanto riguarda l'oro pensavo di spenderlo facendo un cannone non quello nuovo che posso fare ma alzando un cannone quindi rimanendo sempre a livello di 10 senza aggiungere nuove strutture a parte il guardiano e fare un pezzo di muro. Però adesso quello che vedo soprattutto avendo avuto una settimana di muratori bloccati è che io ho un gran casino qua. Quindi c'è spuglia da tutte le parti. e visto che io non sono un ecologista spenderò quel mezzo minuto per disboscare tutto quanto perché qua odio il disordine. Non so, anche voi fate così, no? Credo. Anche perché poi capita che si guadagnano delle gemme cinque gemme una gemma poi vediamo un po' sei gemme dall'altra gemma disboschiamo un po' tutto abbassano Greenpeace ecco qui gli sboscamento è quasi finito ormai l'ultimo rotore ok abbiamo levato tutto allora primo passo laboratorio quindi 6 milioni di Elisir ecco fatto che se ne vanno secondo passo abbiamo detto cannone direi che così svuoto anche qua e poi posso prendere subito dalla tesoreria sono bello che posto quindi tesoreria cannone 7 milioni e mezzo vai anche quello è fatto poi tesoreria prendi vendiamo tutto 4 milioni e 996 mila per uno spurtarello non riesco a fare il secondo cosa mi sa il secondo deposito d'oro esatto quindi aspettiamo qualche secondo spremiamo un po' quindi vabbè intanto iniziamo a farne uno poi facciamo un pezzo di muro giusto per spendere un po' di soldi vendiamo qua vedete se sto con 400 mila almeno non mi piange il cuore di nuovo quando mi attaccano e buona diciamo che qua aspettiamo o vendo una decorazione o provo a a estrarre qua vediamo un po' prendi eh no niente ragazzi lo metterò tra qualche minuto quando avrò 4000 e passa di cosa metterò un altro deposito d'oro ad allargare direi che questo è quanto la la puntata è breve forse magari non ricchissima di contenuti ma questi considero una cosa abbastanza importante invece io da farvi vedere perché secondo me sono i primi passi importanti da fare quando diventi TH11 perché diventare subito TH11 con la difesa aquila hai il difetto poi in guerra che ti abbinano dei TH11 contro e potrebbero avere anche loro le truppe più forti delle tue già maxate collaboratori eccetera non avere il castello più grande potrebbe essere anche quello un problema sono tutte cose che secondo me è importante mettere in luce per cui io con calma vi faccio vedere quello che riesco a accumulare di settimana in settimana e quello che considero più importante da fare poi sta a voi se pensare se la penso giusta o meno bene l'episodio finisce qui come al solito lasciate qualche commento qualche mi piace e niente ci si vede al prossimo ok ciao ciao